benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo puntata che come vedrete sarà sorprendentemente dedicata anche per via una prima pagina importante oggi al tema dell'utero in affitto quindi scusate il ritardo ma abbiamo dovuto fare una segna stampa un pochino più approfondita proprio perché una tematica così per noi molto rilevante ha sfondato il muro delle prime pagine incredibilmente oggi non è una giornata in cui c'è una notizia particolare sull'utero in affitto però vedrete seguendo la puntata di oggi perché è stato così importante sottolineare questo tema saluto barbara putignani silvia lucchetti francesca giorgi gloria callarelli meri rossi ricordo coloria callarelli impegnata a conegliano nel sostegno a luca damiano candidato a lorenzo damiano candidato sindaco meri rossi impegnata a padova con le liste del popolo della famiglia saluto nadia sanchioni andrea camenaghi silvia lodà la bellissima romana cordova maritata con andreas hofer detto anche emiliano fumaneri all'anagrafe diciamo così ninnarello vito di lorenzo danilo bassan candidato a a padova per il popolo della famiglia jacobo pioli andrea dolcini giovanni mazzotta è arrivato anche don massimo lapponi di cui vi ho sottolineato proprio ieri la lettura sul quotidiano la croce dell'ultima puntata del suo rinnovamento della teologia estremamente interessante oggi particolarmente interessante c'è l'editoriale e una pagina intera firmata sulla croce da gianfranco amato saluto ombretta ridolfi saimir è arrivata silvia lucchetti ci informa che sta andando dal dentista e dunque sarà tempo di dolore e sofferenza povera povera la nostra silvia saluto su san demetz maddalena fabbri alex zino francesca marzoli marcello baldini ricordo eletto del popolo la famiglia a ravenna uno dei nostri eletti arrivata anche antonella bagno ivan manzato che è impegnato in quel di fontana fredda altro territorio lembo dell'italia in friuli venezia giulia in cui siamo candidati c'è mila d'angelo e saluto tutti voi e passo alla lettura del vangelo di oggi anche perché oggi è un vangelo bellissimo sapete oggi è la festa della visitazione della beata vergine maria e dunque un vangelo diciamo diverso da quello che abbiamo ascoltato in questi giorni perché torniamo a leggere il vangelo di luca il primo capitolo del vangelo di luca salutando simona bartoli rosa grazia pellegrino alessandra mondelli che stasera sarà presente c'è mirco de carli che mi telefona durante la diretta vi dico solo questo insomma frustatelo voi per me voi che lo conoscete diciamo così dita mirco de carli non è il momento di telefonare durante la diretta di stampa il vangelo saluto marco fasulo del gruppo preghiera popolo la famiglia nostra bandiera in basilicata saluto mira d'angelo saluto anna ciappa mirco è arrivato a vedere il video e quindi ha capito che non bisogna telefonare durante la diretta saluto stefano capola antonella iuna don francesco cola monaco che ci dice solamente il pdf potrà salvare il sacro santo diritto dei bambini avere una mamma e un papà un abbraccio a tutti voi c'è arrivato anche un amico del pdf di verona dove siamo impegnati con la candidatura sindaco di filippo grigolini mirco de carli dice non partiva la diretta e la chiamata è partita ho capito deve essere successo questo allora andiamo a leggere vi chiedo di invitare gli amici oggi sarà una puntata importante tutto lì in affitto come sapete è la nostra battaglia forse dal primo giorno in cui siamo scesi in questa insomma difficile tenzone con un mondo assetato di falsimiti di progresso oggi è un giorno importante perché riportiamo dei risultati molto significativi ovviamente alessandra mondelli di borgo manero dice ci vediamo a monza oggi a monza abbiamo due appuntamenti sarò presente nonostante adesso sia in diretta da roma ma magica bula alle 17 sarò in piazza a monza e alle 21 sarò ancora a monza per un'iniziativa sempre con gianfranco amato quindi è una delle pochissime iniziative di campagna elettorale che facciamo insieme con gianfranco e dunque sarà una inevitabilmente una serata speciale per far sapere a più persone possibili del nostro tutti i nostri appuntamenti e le questioni che affronteremo oggi ecco arrivato anche passimiliano amato che potrà confermare diciamo così la presenza di gianfranco alle nostre iniziative di oggi a monza per far sapere sarà più gente possibile fate anche un invito ai vostri amici a seguire in questo momento la diretta e visto che siamo già in tripla cifra andiamo a leggere il vangelo del giorno vangelo di luca siamo al primo capitolo i versetti sono quelli dal 39 al 56 in quei giorni maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di giuda entrata nella casa di zaccaria salutò elisabetta appena elisabetta ebbe udito il saluto di maria il bambino le sussultò nel grembo elisabetta fu piena di spirito santo ed esclamò a gran voce benedetta tu tra le donne benedetto il frutto del tuo grembo a che debbo che la madre del mio signore venga a me ecco appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del signore allora maria disse l'anima mia magnifica il signore il mio spirito esulta in dio mio salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata grandi cose ha fatto in me l'onnipotente e santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato a mani vuoti i ricchi ha soccorso israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri ad abramo e alla sua discendenza per sempre maria rimase con lei circa tre mesi poi tornò a casa sua bellissimo vangelo di oggi bellissima pagina di apertura quasi vorrei dire primo capitolo del vangelo di luca come sempre la poetica del vangelo qui siamo dentro un inno che è poesia pura evidentemente immortale peraltro travalica i millenni davvero straordinario vogliamo dedicarla questa lettura a emiliano velasco che ci chiede in sala d'attesa di una visita specialistica per sua madre preghiamo per lei certo che preghiamo per lei e oggi forse questo vangelo è proprio dedicato alle mamme alle mamme che è il tema che vorremmo affrontare oggi perché l'affrontiamo oggi l'affrontiamo partendo da una notizia tragica la notizia che fa aprire la prima pagina di libero con questa titolazione buttano via i bambini è l'apertura di libero di oggi vi leggo queste pochissime righe del catenaccio di libero buttano via i bambini è il titolo come fosse lo spazzatura neonato abbandonato in strada muore ogni anno sono 400 i piccoli scaricati ma nessuno si scandalizza garantire alle coppie omo di fabbricare figli sfruttando il corpo delle donne ci preme più che salvare creature innocenti questa non è la prima pagina della croce è la prima pagina di libero con un editoriale firmato da melania rizzoli intitolato affittano gli uteri e rottamano i bebè ora io non dimentico che sul libero proprio sul libero luca delese fece una lunga esortazione riguardante le la paternità di nichi vendola quando luca delese lavorava libero dunque ed eravamo in campo già allora leggere un quotidiano come libero che due anni fa faceva l'esaltazione un anno fa faceva l'esaltazione della cosiddetta genitorialità di nichi vendola un anno e mezzo fa oggi scrive una pagina di questo genere affittano gli uteri e rottamano i bebè vuol dire che forse il lavoro che ha compiuto il popolo e la famiglia in questo periodo a qualcosa è servito in termini di sensibilizzazione su un tema così decisivo sfiede sull'utero in affitto il quotidiano la croce che fece la campagna i figli non si pagano vi ricordate la raccolta firme i figli non si pagano qualcosa che ormai risale a due anni e mezzo fa pensate due anni e mezzo fa facemmo a gennaio del 2015 la raccolta delle firme su i figli non si pagano decine di migliaia di firme che dice cosa sono servite sono servite a costruire sensibilizzazione che oggi fa trasforma un giornale che ospitava l'esaltazione della cosiddetta genitorialità di nichi vendola in una pagina evidentemente e platialmente contraria all'uteri d'affitto prima pagina di oggi affittano gli uteri rottamano i bebè la battaglia culturale serve a questo due anni e mezzo citando Filomena Marturano in giro per l'Italia vi ricordate qualche convegno forse fatto con me che spesso si chiudeva con questa frase di uno straordinario drammaturgo peraltro senatore a vita del partito comunista si chiama Eduardo De Filippo che scrive e mette in bocca a una prostituta qual è Filomena Marturano la frase chiave della nostra civiltà i figli non si pagano i figli non si pagano fu appunto il titolo di una raccolta firme che ha coinvolto decine di migliaia di persone con il quali erano la croce due anni e mezzo fa venne poi un percorso che condusse attraverso voglio la mamma attraverso i circoli voglio la mamma attraverso i circoli la croce attraverso appunto 200-300 convegni alla stagione dei family day poi il popolo e la famiglia evidentemente ha fatto di queste tematiche elemento di battaglia politica risultato oggi libero ha una linea totalmente diversa rispetto a quella di un anno e mezzo fa i figli non si pagano lo dicono con estrema chiarezza i giornali laici di più proprio ieri è stata la giornata in cui è scoppiata la polemica nel mondo LGBT c'era in forma ci dà notizia di questo Monica Ricci di Sargentini con un articolo su quella della sera intitolato non siamo ad inolfi attenzione questo è un altro elemento interessante arci lesbica si schiera contro l'utore in affitto esponenti del mondo LGBT del gay pride di cosa accusano arci lesbica? di essere come ad inolfi e la giustificazione diventa proprio questo siamo diventati paradigmatici di una battaglia cioè quando si vuole intendere qualcuno che è contro l'utore in affitto in maniera netta, chiara, argomentata, seria e dunque inamovibile ecco l'espressione che si usa è siete com'ad inolfi nel mondo LGBT ora aver portato l'elemento di contraddizione all'interno del campo avversario evidentemente con delle ragioni che sono state misurate persino dal mondo lesbico, gay, bisessuale, transessuale come ragionevoli tant'è che ieri avevamo articoli sul Corriere della Sera su gay.it un poverino come Aurelio Mancuso che non è neanche di arci lesbica evidentemente ma è un ex dirigente di arci gay ha dovuto anche lui dire ah no non sono com'ad inolfi stesso titolo su gay.it vuol dire che noi siamo diventati paradigmatici rispetto a una battaglia a difesa dei diritti dei bambini perché questo è difesa dei diritti dei bambini a non considerarli mai oggetto, possibile oggetto di una transazione commerciale e a difesa del loro diritto ad avere una mamma e un papà questo semplicemente abbiamo fatto in questi anni perché citando Filomena Marturano i figli non si pagano un principio chiarissimo chiarissimo il corpo delle donne non si usa non si sfrutta non è un fattore della produzione e dunque la battaglia da compiere non quello di parlare come dico sempre i nostri conveni tra di noi darci ragione tra di noi ma portare le ragioni della nostra battaglia nella società fino al punto di entrare nel campo avversario in assoluto questo è un elemento che io considero assolutamente importante e significativo Romana Cordova ci invita a pregare oggi per Charlie Gardi il bambino a cui a Londra a mezzanotte i medici toglieranno i sostegni vitali anche questa è una battaglia che solo noi come Quotidiano La Croce abbiamo introdotto nel dibattito italiano su questa incredibile sentenza che porterà a morte questo bambino è ancora una volta ragione Corrado Saloni è il nostro candidato ad Avola in Sicilia quando dice i bambini non si toccano non sono un oggetto questo è l'elemento centrale ricordiamoci il nostro lavoro come popolo e la famiglia in questa campagna elettorale è andare a cercare consensi anche al di là del nostro campo tradizionale di rapporto col mondo cattolico col mondo di chi crede è andare a parlare con le persone che hanno un qualche elemento di riflessione perché a quel punto veramente come dice Alessandra Mondelli diventiamo un paradigma se il Corriere della Sera titola non siamo ad inolfi voi capite evidentemente che noi veniamo presi come elemento paradigmatico di una battaglia chiara netta coraggiosa che la nostra è intestata a noi inevitabilmente con tutto il carico di violenza che questa cosa porta con sé gli avversari ovviamente usano noi come parafulmini e ci scatenano addosso di tutto ma l'elemento paradigmatico contenuto in quella titolazione al Corriere della Sera in quella accusa rimbalzata tra l'arci lesbica e gli altri temorenti del mondo LGBT vuol dire che probabilmente la tematica ha una capacità di sfondamento persino nei campi avversi al nostro questo elemento è un grande patrimonio per il popolo e la famiglia in queste ultime giornate 10-11 giornate che abbiamo di campagna elettorale prima del voto dell'11 giugno alle amministrative voto che evidentemente sarà fondamentale per i destini del popolo della famiglia quindi lo sforzo dobbiamo compiere al massimo sapendo che anche quando viene detto male di noi quando viene scritto male di noi quando veniamo accusati di ogni nefandezza anche questo è un meccanismo che ci aiuta a far conoscere le nostre ragioni come dice Roberto Vecchiettini non esiste migliore pubblicità è importante questa riflessione noi dobbiamo ambire ad essere paradigmatici anche nella testa dei nostri avversari dobbiamo diventare pietra di paragone questo è un obiettivo concreto da ottenere come dice Corrado Solonia dice una cosa spettacolare fino a tre mesi fa nessuno conosceva il popolo della famiglia d'Avola ora tutti ne parlano e lo conoscono nel bene e nel male non dobbiamo avere paura di essere divisivi da questo punto di vista nella società evidentemente portiamo una voce che non è una voce del coro anche il gioco che ho fatto ieri su Totti l'ha dimostrato noi non accettiamo di cantare nel coro siamo quella nota che rispetto alla coralità cerca sempre di offrire l'elemento del politically uncorrect attenzione con questo noi abbiamo una capacità di far riflettere le persone perché il conformismo non è la stagione utile al nostro tempo Lorenzo Damiano sta andando al gazebo a sostenere la posizione del popolo della famiglia fisicamente tra le persone lo salutiamo ciao Lorenzo Fabio Cesare è pronto a far partire il popolo della famiglia anche nel Mugello terra rossa rossa Roberta Palmigiani dice sempre non siamo fatti per conformarci ma per distinguerci Luisa cita il reddito di maternità che è la proposta forte del popolo della famiglia in vista delle elezioni politiche Marco Fasulo cita il vangelo essere pieta di un sciampo per diventare testata d'angolo Vladimiro Campello dice non solo il popolo della famiglia è paradigmatico viene anche copiato nei temi di campagna elettorale sì questa è una cosa che chiunque faccia la campagna elettorale si accorge siccome siamo portatori di idee fondamentalmente portatori di idee ce le copiano ma va bene così perché va a dire che oltre a essere paradigmatici esattamente come dice Vladimiro siamo anche come dire fecondi nella capacità di far spargere le nostre idee Alex Zino finora dice questa voce va portata a tutti anche velocemente visto che i tempi sembrano accorciarsi Anna Russo dice Mario se ci sei ci siamo Mirko De Cardi dice partiamo a Foggia a Bari partiamo ovunque in ogni territorio italiano perché è il momento di essere presenti evidentemente le politiche come avete capito si terranno in autunno ed è il momento di essere presenti con questo simbolo davvero in ogni angolo del paese Sara Deodati dice non riesco a smettere di piangere sono sconvolta dalla storia del bambino gettato via a Torino la storia da cui siamo partiti oggi buttano via i bambini è proprio la titolazione di Libero che ha poi portato alla riflessione di Libero sul dutero in affitto Giusy Camarda dice il progetto di Dio sulla famiglia è unirsi e prolificare i figli sono il risultato di un atto d'amore e non di un desiderio egoistico Alessandro Speri vuole parlare della legge elettorale ho scritto un lungo editoriale ieri sulla croce ne parlo praticamente ovunque vi ho parlato ieri in quella famosa intervista Radio Usano Campus dove poi si è presa la parte su Totti la soglia di sbaramento al 5% per il popolo e la famiglia è una grande opportunità ovviamente oggi non dobbiamo leggere non abbiamo la legge non sappiamo come sarà strutturata veramente vi assicuro che per una forza del 2,5 3% come il popolo e la famiglia come sarà valutata le prossime amministrative questa soglia è una grandissima opportunità sarà chiaro tutto subito dopo le amministrative contiamoci le amministrative vediamo quanti voti prendiamo leggiamo bene la legge elettorale per come sarà scritta per come sarà evidentemente scritta poi vedrete che se il nostro 2,2 sono i fattori se il nostro consenso aumenterà come credo che aumenterà rispetto all'amministrativa del 2016 e se l'impianto della legge rimane proporzionale se queste due condizioni si confermano per il popolo e la famiglia si apre un'autostrada l'ho spiegato in qualche modo nell'editoriale che è uscito ieri sulla croce tornerò a spiegarlo quando avremo questi elementi chiari cioè il livello di consenso del popolo e la famiglia che ricordo che nel 2016 ha superato il 3% solo in un comune a corde nonce 3,3% eleggemmo il vice sindaco Lanfranco Lincetto ora secondo me è una previsione che faccio le percentuali dei comuni dove il popolo e la famiglia supererà la soglia del 5% non del 3% del 5% saranno molti di più molti di più del solo corde nonce del 2016 la media dei consensi che noi riceveremo credo sarà significativamente importante almeno i sondaggi così dicono se l'impianto della legge elettorale resta un impianto di tipo proporzionale per il popolo e la famiglia si apre davvero una stagione importante e decisiva della propria storia quindi nessun timore davanti alla campagna elettorale per le politiche che sta per aprirsi saluto anche Laura De Bolini sono onorato di averla tra noi vi sono una delle scrittrici del momento insieme a Filippo Fiani autrice di un bel libro che si intitola il quinto blocco a giù il cento blocco a giù scusate che potete sicuramente trovare in libreria saluto Cinzia Gioia saluto Daniela Tascini saluto Mirena Brindisi Trabbona ecco Don Massimo Lapponi la bambina di Siracusa la bambina di Siracusa è salva caro Don Massimo ieri ce ne siamo preoccupati pensate da chi è andata la bambina di Siracusa è andata a cercare i genitori biologici è andata a casa i genitori biologici era una ragazzina che era stata adottata quattro anni fa e aveva la nostalgia dei genitori biologici questa storia legata alla tematica del luto in affitto che oggi apre come ho detto il quotidiano libero e che ha aperto ieri il Corriere della Sera sull'articolo di Monica Ricci di Sargentini e apre oggi persino le testate LGBT come gay.it dove dicono siete gomma di nolfi perché anche il mondo LGBT ormai assumono le nostre posizioni a incontrare il luto in affitto bene tutto questo ci fa dire che alla fine a difendere davvero le ragioni del diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà saranno i bambini stessi che andranno dai loro genitori alla Niki Vendola o alla Tiziano Ferro e gli diranno ma come vi siete permessi di negarmi il diritto ad avere una madre ma come la ribellione alla fine sarà di questi ragazzi che andranno certamente è scritto perché è scritto nella natura dell'uomo andranno da questi e diranno come vi siete permessi con i vostri sporchi soldi di negarmi il diritto ad avere una mamma io sono stato genitore di un adolescente che ora è diventata più grande perché ha 21 anni e so che i livelli conflittivi nella dimensione adolescenziale affrontano un'enormità di temi figuriamoci rispetto al tema dell'assenza della maternità la ribellione finale che darà scacco matto al meccanismo del luto di inaffitto sarà quella di questi poveri ragazzi utilizzati come cose che andranno da costoro e diranno come avete osato come avete osato negare a me il diritto ad avere mia madre e questo sarà il momento in cui davvero potremo chiudere questa stagione infame che è la stagione del desiderio trasformato in diritto del desiderio egoistico degli adulti che penalizza il diritto dei bambini io penso che da questo punto di vista noi siamo pronti a raccogliere un'importante vittoria sul terreno del luto in affitto ripeto essendo stati ed essendo considerati paradigmatici in questa battaglia fino al punto che persino nel mondo lgbt ormai dicono siete comati in orfi quando trovano persone contro l'utero in affitto rosa che non è esposti spera di vedermi alle 17 insieme ad Anna allora io ricordo che devo correre purtroppo perché devo andare a Monza che è lontana quindi ci vediamo alle 17 in piazza a Monza non ricordo quale piazza sia ma qualcuno magari lo scrive così la cito oggi alle 17 poi alle 21 facciamo anche un convegno con Gianfranco Amato sempre a sostegno della nostra Manuela Ponti candidato sindaco del Popolo della Famiglia ieri ho fatto un elenco di quanto abbiamo ragazzi candidati di 25 anni a sindaco di 34 anni come Stefano a Righi a Genova di 44 anni come Filippo Cricolini a Verona fino ai più grandicelli Lorenzo Damiano Luca Grossi fino addirittura a un candidato sindaco 75enne 75enne a Teolo fatemi salutare Sabino Sabini oggi dalle 17 alle 18 la trasmissione del gruppo preghiera Popolo della Famiglia sto seguendo poco tutti voi mi dispiace davvero vorrei avere il tempo di concentrarmi e seguire ogni cosa è diventata ormai la mia vita veramente un terribile frullatore chiedo preghiere per me dal gruppo preghiera del Popolo della Famiglia perché ho veramente una giornata che ormai non ha neanche i minuti per andare veramente a avere un minimo di cura per le questioni più personali diciamo così però questo vuol dire che il Popolo della Famiglia è in salute vuol dire che chiede di presenze sempre sostegno in tutta Italia e non posso negare ai miei amici che me lo chiedono il sostegno ogni giorno che posso e dunque anche oggi prendiamo un bel treno e ce ne andiamo in quel di Monza lontano mi pare 600 km dal punto in cui sto trasmettendo in questo momento la puntata di Stampe Vangelo proprio perché sono gli ultimi giorni di campagna elettorale mi scuserete Stampe Vangelo tornerà in onda a partire da martedì perché sono purtroppo davvero alle prese con 10.000 iniziative e dunque martedì che credo sia il 6 6 di giugno noi riprenderemo le trasmissioni di Stampe e Vangelo ora stiamo facendo diciamo così tutto quello che è necessario fare per avere il risultato migliore il popolo la famiglia ricordiamoci di chiedere a tutti i cittadini di mettere una croce su questo simbolo sul simbolo il popolo la famiglia una croce sul simbolo si vota molto semplicemente così e così si vota anche per effetto trascinamento al al proprio candidato sindaco quindi basta mettere una croce sul simbolo poi ci incontriamo in giro per l'Italia quindi farete a meno di me qualche giorno solo fino a martedì poi martedì riprendiamo anche le puntate di Stampe e Vangelo sono felice che Rosa e l'onora degli esposti potrà venire stasera a Monza e conoscermi personalmente ovviamente chiunque si trovi in zona Lombarda può venire a trovarmi via Santa Maddalena 7 credo sia l'appuntamento delle 21 cara Francesca Centofanti che oggi cura il coordinamento editoriale di questa puntata non mi ricordo dov'è la piazza dove facciamo il comizio alle 17 Massimo Pistoia dice buon lavoro Mario tra poco si vedranno i risultati concreti all'amministrativa dell'11 giugno ci saranno i primi frutti grazie Massimo anche un grazie particolare a Massimo perché è un abbonato alla Croce sostenitore che ha appena rinnovato e lo ringraziamo con un abbraccio forte per il sostegno concreto che dà il nostro lavoro quotidiano che tutti i giorni anche oggi c'è il quotidiano alla Croce per i nostri abbonati una pagina oltre che l'editoriale firmato da Gianfranco Amato saluto Giovanni Fiori saluto Maria Rosa Ferraresi Luigi De Novellis Rosa Leonora risposte ci informa che è piazza San Paolo a Monza alle 17 il luogo del comizio proprio di piazza saluto Roberta Amante che oggi accompagnerà la zia all'incontro sempre a Monza saluto Cristiano Zuccherini Nicola Boldini Ninarello Marco Lobracco ma che sta cercando amici nella zona di Pistoia insomma l'importante è continuare ad essere presenti in maniera radicata e radicale in tutti i punti piazza San Paolo dice Anna Russo l'appuntamento di oggi a Monza alle ore 17 devo anche conservare la voce perché mi sono accorto che a forza di fare comizi io faccio un'ora quasi di stampa e vangelo tutti i giorni poi vado a fare due comizi al giorno parlando cinque ore in termini monologanti cioè vedete devo sempre tenere la voce è anche alta per farmi ascoltare soffro di un terribile mal di cola adesso vi devo confessare che arrivo alla fine della giornata che non riesco più a parlare e mi sono quasi preoccupato io sono abituato a parlare molto diciamo però ormai è diventato talmente faticoso talmente faticoso proprio in termini di emissione vocale che a fine giornata mi scuseranno chi mi incontra mi fa le telefonate diciamo nel tardo una tarda serata e poi alla fine non riesco più a parlare certamente neanche rispondo saluto anche Guido Pianeselli Anna Ciappa mi consiglia miele e zenzero mi hanno proposto mille cose la propoli la cavolfiore non so che insomma mi hanno proposto di tutto però di voi io sono abbastanza abituato sono tanti anni che me non male mi ritrovo a dover fare trasmissioni comizi discorsi però adesso veramente sono diventate incessanti e questa attività di stampa evangelo è un'attività che è un monologo assoluto come vedete insomma quindi di continua emissione vocale anche con qualche sostegno vocale perché altrimenti non mi sentireste bene su facebook e dunque il lavoro da compiere è come forse come dice Luigi De Novelli se uso male la voce dovrei imparare da un locopedista e dice Alessandro Speri dice giustamente senza voce come farai per la finale di Champions ecco in tutto questo poi sabato non mi cercate e sabato sarò nascosto da qualche parte a tifare per la mia Juve nella finale di Champions League come inevitabile che sia è arrivato anche Giuseppe Focone Silvia Bodini propone le acciughe sott'olio perché le usano i cantanti Graziano Delellis propone il miele Vincenzo Dell'Albanice Miele di Timo e Limone un santo rimedio saluto Giuseppe Focone vado di corsa a prendere il trenino che mi porterà in quel di Monza con tutti gli amici ci troviamo appunto a Monza c'è anche Gianfranco Amato quindi oggi serata che per certi versi un unicum tutti insieme per sostegno una candidata donna come Emanuele Ponti che insieme a Lucianella Presta Maria Verita Boddi rappresenta diciamo la testa di ponte di un universo femminile così protagonista nel popolo della famiglia saluto Antonello Perbellini avete già considerato che serve un milione e settecento mila voti piano piano vediamo i risultati dell'undici giugno e poi poi vi ripeto per il popolo della famiglia da quel momento si apre un'autostrada un'autostrada saluto Anna Scapin che dice preghiamo per te che il Signore ti dia la forza e salute per lavorare nella sua vigna ragazzi se anche io morissi domani diciamoci la verità ormai il popolo della famiglia è talmente forte che può fare tranquillamente a meno di me quindi può andare a crescere alla grande il Signore ha già prodotto il suo miracolo io cerco solo di dare una mano per quel che posso in questa fase che è quella faticosa mettendo tutta la mia fatica ma insomma se anche il Signore si dovesse ricordare il momento di chiamarmi a sé insomma io sono felicissimo di poter chiudere questa esperienza con la gioia e la soddisfazione di aver visto un popolo in cammino posso anche non arrivare alla terra promessa ecco diciamo così non è fondamentale nessun destino personale qui conta davvero la testimonianza di un popolo questo è un elemento fondamentale importante comunque prometto a Giovanni Fiori che aspetto un attimo prima di morire bellissima frase sì aspetto un attimo farò di tutto ovviamente per accompagnarvi più a lungo possibile però se anche domani succedesse qualcosa il treno si ribalta tranquilli ce la fate da soli insomma sono Francesca Patuzzi Rosalba Tavella Barbara Giacovelli Francesca Centofanti ricorda di avvertire anche la Pongi Francesca che ci rivediamo il 6 di giugno con la diretta di stampa Evangelo saluto anche Massimiliano Porzio noi ci ritroviamo allora martedì e invece in giro per l'Italia per le iniziative di campagna elettorale cominciamo oggi alle 17 in piazza a Monza e alle 21 col convegno sempre a Monza con Gianfranco Amato la puntata è sul luto in affitto quella di oggi particolarmente rilevante quindi condividetela sui vostri profili fate capire che siamo diventati il paradigma di una battaglia di una battaglia giusta che evidentemente non è considerata giusta solamente dal popolo e la famiglia ma grazie alla nostra ostinazione oggi Libero fa una prima pagina sul luto in affitto contrariamente un anno e mezzo fa quando faceva le prime pagine sulle genitorialità di Nichi Vendola nel mondo LGBT comincia a introdursi qualche riflessione e dicono siete Comadinolfi a quelli che nel mondo LGBT effettivamente la pensano Comadinolfi abbiamo inoculato chiamiamolo così il virus di Filomena Marturano in tutti i contesti dove si ragiona i figli non si pagano ricordiamocelo è la grande vittoria del popolo e la famiglia sul piano culturale i figli non si pagano questa vittoria culturale deve diventare anche vittoria politica raccogliendo consensi nelle prossime elezioni amministrative domani sera a Roma c'è la scuola di dottrina sociale della chiesa per i dirigenti del popolo e la famiglia lo ricordiamo avvia dei genieri a Roma per chi volesse San Giuseppe Artigiano c'è l'appuntamento credo alle 21 con la scuola di dottrina sociale della chiesa un abbraccio a tutti voi a Giuseppe Focone a Francesco Lucirino a Giovanni Mazzotta a Maria Rosa a Ferraresi Massimiliano Porso dice a Cuneo ti aspettiamo sono stato a Cuneo quanto è? 4 giorni fa non è che mi aspettate sono venuto lì a Savigliano a fare un comizio proprio 4 giorni fa quindi mi aspetterete per un po' adesso insomma intanto fate partire un circolo benissimo saluto Mary Annmari Alex Zino un abbraccio a tutti voi saluto San Giuseppe da Copertino la parrocchia mi precisa Sara Deodati per la dottrina sociale della chiesa la scuola di formazione promossa Giuseppe Brienza che domani vede mi pare la sua terza sessione eh grazie a tutti chi mi dice riguardati facciamo il possibile ma ehm bisogna anche darsi quindi darsi e riguardarsi diciamo eh l'importante in questa fase è darsi a Napoli come siamo messi chiede Luigi Nenovellis c'è Giuseppe Focone che ti può dare tutte le informazioni perché è sul territorio napoletano il nostro rappresentante del popolo della famiglia un abbraccio da Sant'Antonio a Padova ci darà una buona mano dice Anna Scapin ce la darà sì anche perché noi chiudiamo la campagna elettorale il 9 di fronte alla Basilica di Sant'Antonio a Padova e indovinate un po' ci sarò anch'io quindi un altro viaggetto per arrivare a Padova il 9 da Genova dove invece vado l'8 a fare il comizio di chiusura per Stefano Arrighi il 9 invece vengo a Padova attraversando l'Italia stavolta in termini longitudinali da Genova a Padova mi pare sono quei buoni 600 km in lungo diciamo così quelli che faccio adesso invece in largo per andare da Roma a Monza il circolo appena nato come dicono a Padova esattamente con la lista saluto Paolo Ruotolo Paola Perissinotto Giuseppe Focone dà i suoi riferimenti a Luigi contattatevi in privato per rafforzare la nostra presenza a Napoli ci salutano anche le rondini a Roma dice bella lavanda bellissimo Don Francesco Morcavallo mi frusta e dice darsi ma c'un grano salis altrimenti gestisci male le forze hai ragione siamo all'esaurimento quasi delle forze saluto Vincenzo che mi vuole in Sicilia Armando Pubella Nicola Pasqualato eccolo qua Nicola Pasqualato un abbraccio ai nostri dirigenti storico in Veneto saluto Maurizio Cariani saluto Michele Ferriani saluto che mi vuole a Pieve di Centro abbiamo fatto una bellissima serata credo un poco più di un anno fa molto molto bella molto partecipata Corrado si vuole commestere in connessione con Vincenzo per la Sicilia mi raccomando popolo e famiglia forze avanti da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti ci vediamo oggi a dalle 17 in poi per le due iniziative a Monza a sostegno il candidato sindaco Manuela Ponti da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti